Salve! Però il buone caro OBS più tutte le cose hanno deciso di non registrarmi e corrodersi e quindi sbam che ci siamo persi, o meglio mi sono perso, l'episodio del Nether nel quale avevamo preso i frammenti. Praticamente avevo preso i frammenti, era uscito anche un bellissimo episodio che nessuno vedrà mai, mai più. E appunto dicevo che in questo episodio, avevo appunto messo anche a cuocere dei lingotti, tra l'altro esatto ne avevo altri, andavamo a crearci la spada di nederite. Quindi dato che ci siamo persi l'episodio del Nether, fatemi sapere nei commenti se volete che io torni, o meglio sarà per voi la prima volta, ad esplorare il Nether, il nuovo Nether della 1.16 che tutti amiamo ed è piaciuto a tutti. Però in questo episodio non esploriamo il Nether, bensì andiamo a incantare, o meglio a rendere di nederite le nostre armi, le nostre armi già di diamante. Quindi se non sbaglio dovrebbe essere una cosa del tipo così, ora non mi ricordo bene eh, sto andando un po' a strafalcioni, vediamo, vediamo, vediamo. Esatto, ok, è una cosa del genere, e ci fa il lingotto di nederite. Quindi se noi andiamo al tavolo da fabbro che ho dovuto fare, esatto, vedete che si potenzia, però sono abbastanza sicuro, non ne ho la certezza, però sono abbastanza sicuro che tolga gli incantamenti. Ora, dopo voglio provare con un'arma non incantato, comunque scarsa, e vediamo che comunque si sono potenziati più uno di resistenza al contraccolpo, tra l'altro. Perfetto, incantati, boom! Ok, perfetto, ce ne craftiamo altri sei per il momento, e io direi che... Allora, intanto facciamo così, lo facciamo sull'armatura, ok, cos'è che c'ho di incantato? No, non c'ho niente di incantato dell'armatura, oh mio dio, non lo sapevo. Ok, quindi ci andiamo a fare l'armatura, appunto, come ho detto letteralmente un secondo fa. Perfetto, guardate che bello, siamo diventati, signori, un cavaliere nero! Cioè, chi nella vita non ha mai desiderato di essere un cavaliere nero? Cioè, guardate... no, non dovevo lanciarlo, ho failato, ho failato. Guardate che fighi che siamo, tra l'altro non c'ho neanche la skin su PS4, sono un po' un pollo. Ah no, ok, rimane, ah ok, efficienza 3, aumenta tra l'altro di uno. Perfetto, quindi, ascia di nederite presa, spada di nederite stra presa, non presa ma stra, e anche il piccozzo. E ora ci manca solo una cosa, ovvero la palla, perché vista così è un po' bruttina, quindi mettiamo via questo. Me ne crafto un altro, tra l'altro che palla, l'episodio scorso, quello lì appunto che non avete visto, ci ho messo un bot... No, che cacchio, ci ho messo, dicevo, un botto di tempo, prima di trovare tutto, far tutto, ci ho messo una sbrega di tempo. E invece no, Master, no, perdi tutti i file, fateli corrodere. Dannazione, dannazione. Quindi questo, per chi non lo sapeva, era come si potenziano le varie armi e anche armature. Ora vorrei andare a vedere al banco... ah, però sono a livello 16, sono a livello un po' bassino in realtà. Appunto volevo andare a potenziare le armi qui all'Enchanting Room, alla nostra salettina per potenziarle. Però, a parte il fatto che questa, esatto, è già strapotenziata e non me lo trova, però sono a livello 16. Quindi se nel dubbio volessi incantare gli stivaletti, vediamo, esatto, al 30 non posso, passo anfibio ci sta anche in realtà. Per ora non facciamo niente, diciamo che dobbiamo salire di livello. Fatto sta che è una figata totale avere queste cose, cioè proprio è fighissimo. E mi sa che per potenziarli, o meglio, quando si stanno per rompere, per farli tornare normali, mi sa che servono i cosi, i ingot, quelli lì che tutti conosciamo. E quindi mi sa che ci sarà da farmarli. Io nel dubbio, se voi volete, vado, torno più che vado nel nether, però sta tutto a voi. E direi proprio che volendo possiamo andare, ma subito dopo aver lanciato il pollo... Quanto lento. Oh, è uscito il pollo, mio Dio, però quanto lento. Wow! Wow! Oppure facciamo così, mi è venuta un'idea, al posto di andare in giro a caso nel mondo aperto, ce ne torniamo, più che andiamo, nel nether. Magari torno appunto nello spot dove ho trovato un po' di tutte queste robe, tutti gli ingot, tutte le robe varie. Così vi faccio anche vedere un po' come affrontiamo i vari mob. E magari ci capita qualcosa di interessante. Non si sa mai. Buongiorno! Allora, il brutto è che non mi sono segnato le coordinate. Oddio, quanto spacca veloce! No, fuori di testa! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oddio! Quanto spacca veloce! Ora, l'unica cosa che non ho ancora trovato e di un po' mi pento, è il bastione. Esatto, il bastione non l'ho ancora mai trovato. Quindi se dovessimo trovarlo adesso sarebbe perfetto, però in realtà io volevo andarmene nella zona appunto nuova. E se, oh mio Dio qua moriremo malissimo, nella zona nuova non ho ancora trovato il bastione. Quindi magari possiamo esplorare un'altra, non lo so, non lo so. Nel dubbio io... Nel dubbio ora ci facciamo qualche esplorazioncina alla veloce, giusto tanto per... E poi vediamo cosa succede, tra l'altro mi prendo anche un po' di quarzo che non ci fa mai schifo. E niente, ce ne torniamo nella zona nuova. Ok, allora ci ho messo relativamente poco perché era vicino a casa, più o meno. E vedete quanta roba stiamo trovando. Perfetto, tra l'altro... Esatto, con sto piccone... Perfetto, le pepite d'oro mi sa che me ne dà di più, eh, non sono sicuro. Sì, perfetto. Tra l'altro qua c'è pure la sabbia, quella... Oh, fermi, fermi... E niente, c'è già il ghast, perfetto, ok. No, che fastidioso, sei fastidiosissimo. Muori, scheletro. Morite! No, via! Scappa! Che signore sta finendo già in tragedia? Siamo appena arrivati, siamo letteralmente appena arrivati dai boss... Eh, dai boss, dai mob. E ci stanno già facendo il peggio male. Oh, 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 calma, calma. No! No, 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 mi ha pushato! Oh, cosa mi pushi? Schifo scheletro. Tra l'altro il fuoco blu è tipo bellissimo. Scappa! Dicevo, il fuoco blu è tipo bellissimo, il campfire blu è una... Non l'ho ancora craftato, eh, però l'avevo visto nel video, mi sembra, dell'altro ieri in creativa. È tipo la cosa più bella della storia. E niente, volendo possiamo anche prendere questo materiale, il basalto, mi sembra che si chiami. Sì, il basalto, che è carino. Comunque, oddio, qua si cade un botto. Ecco, sto pezzo non l'avevo mai esplorato. Cioè, o meglio, non sono mai sceso. Dicevo, devo inventarmi, o comunque capire, come fare delle costruzioni, dicevo, con la nuova... Con i nuovi materiali, con tutte le cose nuove. Perché molte sono fighissime e di sicuro, ma tipo 101-1000%, si possono creare cose nuove decisamente interessanti. Un botto di scheletri, che schifo, ci fanno! Oh, 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 stai calmo, stai calmo, schifoso. Ecco, ecco, ci assediano, ci assediano un botto. Dobbiamo picchiarli tutti, non abbiamo paura. Le armi le abbiamo, l'armatura un po' meno, ma le armi le abbiamo. Vedete di non farmi niente perché vi faccio del male, eh, state attenti. Oh, no signore, abbiamo trovato il bastione. Oddio, no, sapete che non l'avevo mai visto. Credo sia questo, non ne ho la certezza, potrei star dicendo una stupidata. Perché, sì, no, questa cosa non può essere casuale, per forza un qualcosa di troppo figo e troppo, stra, troppo, troppo. Ok, sì, 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 no, fightare qui non mi piace, sono sul ciglio, esatto, vorrei entrare, grazie. Salve, salve, quanti si è, è la fine. Signore, è finita, basta, è finita, addio. Ok, vediamo tra l'altro. Porca trortra. Vediamo, dicevo, spada d'oro, anateme, contraccolpo. Ah, figo. Nello scorso episodio abbiamo trovato i materiali, in questo ci troviamo il bastione. Ora, io ovviamente sto, lo esploro, però non so cosa posso trovarci oltre a un botto di mob. Cioè, ci sarà per forza qualcosa. Per forza. Ok, signori, ho appena trovato roba. Uh, allora, allora, aspettate, fatemi mettere via robe inutili, tipo questo. Ah, libro incantato, velocità dell'anima. Oddio, no, non so cosa faccia. Quindi, perfetto, abbiamo trovato una cesta e questo mi fa pensare che ce ne possano essere altre totalmente buttate a caso, in posti totalmente randomici. È questo che mi vuoi far capire, gioco? Oddio, guardate quanto è particolare. No, ok. Uh, cesta, sì, doppia cesta. Allora, velocità ancora dell'anima, che non so cosa faccia. Anzi, facciamo così, al posto di continuare a dire non so cosa faccia. Lo vado a cercare su internet velocità dell'anima e poi ve lo dico, perché io sinceramente non ho idea, però magari potrebbe essere il libro più utile della storia, intanto c'è anche il blocco d'osso che prenderò. Ma ci vediamo dopo. Ah, praticamente puoi camminare più veloce sulla terra dell'anima, che è questa qui. Figata, ok, fighissimo. Allora, io direi che è strautile e ce lo teniamo al posto della zappa di pietra. Allora, non stanno dando premi incredibili, però, da quello che ho letto, la velocità dell'anima si può ottenere solo tramite ste zone, ste cose così. Quindi, direi che è assolutamente stonks. Allora, io direi che ce ne possiamo tornare a casa e magari nel tornare a casa trovo qualche blocco interessante da raccogliere, così magari ci portiamo a casa qualche detrito antico da poi cuocere. Quindi, niente, signori, noi ci vediamo tra, per voi un secondo, per me probabilmente almeno mezz'ora. Dannazione, ci metterò un casino di tempo. Salta, schiva tutto. No, mi sa che la strada è sbagliata. Vabbè, signori, a dopo. Sì, signori, il portale. Ciao, portale, ciao, portale. Perfetto, entriamo, mangiando ovviamente una carotina che non fa mai male. Sì, si può tornare a casa. Ok, allora, ok, il casino vario. Qui, tra l'altro, ho fatto anche il bio, ma mi avete dato un bel po' di consigli per raggiungere cose. Però, ovviamente, non lo faremo in questo episodio, che è praticamente finito. Lo faremo, magari, in un prossimo episodio. Direi proprio di tornarcene al magazzino. Qua sotto, voi probabilmente non li sentite, ma io sento un casino di breh, dei vari zombie. E niente, quindi, ce ne torniamo al magazzino. Metto giù un attimo le varie cose, perché abbiamo ottenuto un botto di cose abbastanza importanti. Quindi, signori, credo che per questo episodio possa bastare. Le nostre armi potentissime ce le abbiamo. Il nostro maialino, che ci segue sempre, ce l'abbiamo. E, tra l'altro, dovrei anche migliorare qua sotto tutta la zona. Che l'ho fatto, tipo, in uno dei primissimi episodi, ma non l'ho mai migliorato. Cioè, guardate quanto è grande, però ho fatto così, fa un po' schifo. Lo dovremmo migliorare. Quindi, signori, ce ne torniamo su. E io direi che, per oggi, possa bastare. Salvo ed esco e mi tolgo le cuffie, come alla fine di ogni video. Come sempre, signori, vi ringrazio per la visione. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ovviamente, potevamo fare di più, ma potevamo anche fare di meno. Il nostro bastione l'abbiamo trovato. Vi ringrazio e vi do appuntamento domani allo solito, ovvero il 2.45, con un nuovo video. Ciao!